I man e i dominatori dell'universo Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull Questo è Krikker, il mio eroico amico Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi Per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Grayskull Grayskull diventò il possente Battle Cat e io diventai E-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo Soltanto in tre sono a parte del mio segreto La nostra amica Sorceress, Manet Arms e Urku Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di scheletro Ha, 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 ha Grayskull! 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 Grayskull!